Siamo qui con Angoon, una cantante internazionale. Ciao Angoon, cosa pensi di Taurmina Film Festival? Penso che è meraviglioso, mi permette di venire qui. E' meraviglioso qui e vedo che domani ci sarà Java Heat, un film che si tratta in qualche parte in Indonesia, con alcuni attori indonesi. Quindi sono molto felice, spero che posso guardarlo. E cosa pensi di Taurmina? Beh, dove posso cominciare? Cosa posso dire? E' meraviglioso, è meraviglioso. E le persone... In Italia, ho una connessione molto forte con l'Italia. Ho venuto molto qui. E' uno dei primi paesi che ho visitato quando sono in Europa. e ho questa... non lo so... Abbiamo una storia insieme. Ma infatti non so ancora come parlare italiano. Scusate. E oggi cosa pensi di cantare? Uhmm, I'm going to receive a price for FAO for my work with the Food and Agriculture Organization and then I'm going to sing my song Snow in The Sahara. Grazie mille, sei bellissima.